Adesso vi mostriamo alcune discipline sarde delle Olimpiadi E danno un raggio di Sestriero, è tutto Heidi, Michel, Heidi, Ulzichet, ti sorridono i monti Ti sorridono i monti, ti sorridono i monti, ti sorridono i monti E al signor Greggio le pecorelle fanno ciao Il loro motto L'importante non è vincere, ma cantare Italia, Italia Invece cose nostre non ce n'è Vai, festeggiamo Rigorosamente made in Italy Festeggia Ma che cosa fanno? Beh certo, Pietro Piller Cotterer è stato preso dall'euforia di aver preso una medaglia Ma Cocco e i Deco per Tennis non hanno scuse Eh Dai Abbiamo deciso di costituire un nuovo corpo di sicurezza Sì, The Body Sword Silvia, adesso ti senti più sicura? Eia, adesso sì, finalmente sono sicura e certa che nessuno mi toccherà Più Stiamo aspettando Lucia Blini Lucia, com'è andata? Ah, benissimo, finalmente ho fatto un servizio per il telegiornale senza cartelli sulla testa Perchè ridi? No, no, niente, niente Aio! Siamo a disposizione di tutti i giornalisti L'Olimpiadi sei! Apriamo i festeggiamenti Aio! Qui da noi è tutto rigorosamente made in Italy Ma qui, agli Olimpiadi Torino 2006, sarà tutto made in Italy Verifichiamo! Aio! Aio! Niente di made in Italy Pirambai, Pirambu Ma dall'Oriente arriva qui Pirambai, Pirambu E a noi che cosa ci resta? Di fabbricare Mambai! Festeggiamo! Aio! Aio! Se avessero saputo di dover festeggiare con Cocco avrebbero fatto finta di inciampare per arrivare ultimi Olimpiadi Aio! Aio! Complimenti! Aio! Olimpiadi non si può dire Ebbene sì, non stiamo esagerando Olimpiadi non si può dire Perché il Toro, il comitato organizzatore delle Olimpiadi Ha vietato l'utilizzo in uniforme sia del nome che del logo con i cinque cerchi Mi dispiace per la multa Pirambai, Pirambu Per un motivo che non c'è Pirambai, Pirambu Bambai Neri, neri, sei diventato neri E i decoder tennis qui alle Olimpiadi hanno fatto conquiste Signora, è contenta di questi bei giovanotti? Aio! 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 Aio!